... Ricorsi elettorali, ipotesi consulta, cresce l'attesa per il verdetto del Consiglio di Stato che comunque sarà storico. Si fa strada anche una nuova possibilità. Secondo alcuni giuristi non è escluso il rinvio alla Corte Costituzionale. Terremoto all'Aquila, prime condanne, il progettista dei lavori di restauro ritenuto colpevole del crollo. In una delle palazzine rimasero sotto le macerie i tre studenti della provincia di Isernia. Un arresto per rapina e un furto sventato, trauma cranico per un ladro sorpreso in un appartamento. Durante la fuga ha saltato una siepe ed è caduto in un fossato e un furgone ha tentato di sfondare l'Eurospin. Scavi a Montagano affiora una necropoli, la tomba e i resti di un bambino venuti alla luce durante i lavori per l'acquedotto. Cantiere fermato dalla sovrintendenza già al lavoro nella zona. Marino si riprende domenica, ci sarà il campo basso contro l'Aquila, potrà contare sulla porto del difensore. Domani gli anticipi della settima giornata dei campionati regionali. Buon pomeriggio a tutti voi e bentrovati. In apertura la politica perché cresce l'attesa per la sentenza del Consiglio di Stato dopo l'udienza di martedì 16 ottobre. Una decisione che si annuncia storica sia in caso di conferma dell'amministrazione regionale attualmente in carica, guidata da Michele Iorio, sia in caso di annullamento delle elezioni e di ritorno alle urne. Ma sentiamo in proposito il nostro direttore Manuela Petescia. Il giudizio del Consiglio di Stato, che si attende ormai da un momento all'altro, arriva a seguito di una serie di ricorsi e controricorsi, più o meno complessi, più o meno fondati, che il supremo organo amministrativo ha riunito in un unico fascicolo dopo che il Tar del Molise in prima istanza si era pronunciato per l'annullamento delle elezioni regionali del 2011. Non è naturalmente il caso di entrare nel dettaglio delle diverse questioni e neppure di valutare oggi, sulla base dei fatti, il chiasso che si era sollevato all'indomani delle elezioni, con le polemiche, le pretese di vittoria, le insinuazioni sui brogli elettorali e la richiesta di un riconteggio. Proveremo invece a riassumere ed elencare i punti a nostro avviso fondamentali del contenzioso e le interpretazioni dei legali dell'una e dell'altra parte. Il ricorso del centrosinistra è incentrato sulla legittimità delle firme all'atto della presentazione delle liste. La lista di Molise Civile non possedeva tutte le firme necessarie. Nico Romagnuolo ha sbagliato l'autentica della propria firma. La lista dell'Udc ha raccolto le firme riunendo e spillando insieme in un secondo momento con un timbro di congiunzione fogli sparsi e anonimi. La somma dei voti raccolti irregolarmente sfiora i 21.000 di modo che qualunque fosse il correttivo applicato, per esempio l'esclusione di liste o candidati, si tornerebbe automaticamente alle urne essendo molto esigua, per la precisione di 958 voti, la distanza tra i due candidati. A fronte di queste irregolarità macroscopiche, dice ancora il centrosinistra, e a fronte di elezioni regionali, quelle del 2000, annullate per molto meno e proprio su ricorso di Michele Iorio, il Tar del Molise non poteva che pronunciarsi a favore del ritorno alle urne, come ha fatto appunto il 17 maggio scorso, e ora il Consiglio di Stato non potrà che confermare questa sentenza. La versione dei legali del centrodestra, invece, è questa. Si tratta di questioni puramente formali che non possono incidere sulla volontà popolare che si è espressa regolarmente. Nico Romagnuolo e la lista di Molise Civile, già esclusi in prima battuta, sono stati riammessi dalla Corte d'Appello, dunque nessun abuso della buona fede degli elettori molisani. È vero che le elezioni di distasi furono annullate nel 2000 sulla base di questioni simili, ma nel frattempo, e precisamente nel 2005, è sopraggiunta un'integrazione normativa che tende a privilegiare la volontà popolare e riduce di molto la possibilità di tornare alle urne sulla base di irregolarità puramente formali. Di questo il Tar non avrebbe tenuto conto. Ciò spiegherebbe perché i ricorsi elettorali presentati recentemente in altre regioni siano andati sostanzialmente falliti, visto che i governatori sono tuttora in carica, e orienterebbe il Consiglio di Stato ad annullare la sentenza del Tar Molise. I giudici di Palazzo Spada, in realtà, finora hanno chiarito una sola questione, ed è quella dell'ammissibilità dei ricorsi presentati dal centrodestra. Era opinione diffusa, infatti, che i ricorsi al Consiglio di Stato contro la sentenza del Tar Molise sarebbero stati dichiarati inammissibili per difetto di notifica. Non è stato così. Il Presidente del Collegio, avviando direttamente la discussione, ha vanificato l'aspettativa di una parte del centrosinistra, l'aspettativa, apparsa subito, ingenua e oltremodo ottimistica, di tornare alle urne per un indirizzo sbagliato. Se il Consiglio di Stato deciderà che in Molise le elezioni dovranno essere ripetute, è giusto che ciò avvenga sulla base di certezze, argomentazioni inoppugnabili, sentenze definitive. E dunque queste in dettaglio le ragioni del ricorso, ma sempre restando in tema dell'attesa del verdetto, secondo alcuni giuristi il Consiglio di Stato potrebbe chiedere il parere della Corte Costituzionale. Una strada che però allungherebbe di molto i tempi della decisione. E nel centrodestra, nel frattempo, in molti puntano l'indice contro l'Udc. Ma sentiamo Giovanni Minicozzi. Come i terremoti, la decisione finale del Consiglio di Stato sui ricorsi elettorali appare pressoché imprevedibile, ma nella tarda mattinata è circolata con insistenza l'indiscrezione secondo la quale il collegio della quinta sezione di Palazzo Spada avrebbe deciso di concedere la sospensiva alla sentenza del Tar e contemporaneamente di rimettere tutto nelle mani della Corte Costituzionale. Tale ipotesi era stata chiesta in subordine anche dal pool di avvocati che difendono Michele Iorio. In tal caso si allungherebbero i tempi per la decisione finale di almeno due anni come già è accaduto per le regioni Lombardia e Piemonte. Intanto l'Udc, che era stato oggetto di chiarimenti per la raccolta firme da parte del Presidente del Collegio Stefano Baccarini, si difende contrattaccando. Noi abbiamo presentato, lo dico con dovizia di particolare, alle 9.25 del mattino contrariamente a qualcuno che dice che avevamo l'acqua alla gola e che all'ultimo momento giravano foglietti anonimi per la raccolta delle firme noi alle 9.25, quando le liste si chiudevano a mezzogiorno, abbiamo presentato 1.485 firme. All'ultimo momento ho sottratto altre 36 firme che ho ancora qui con me altrimenti avrei sforato il numero delle 1.500 firme e potevo incorrere nelle sanzioni anche in questo modo di esclusione. Bene, di queste 1.485 firme, leggo adesso dalla sentenza, che sono state ritenute varie del 1.362, fatto fisiologico. La gente deve sapere, perché noi saremmo fuori per carenza di firme, perché 600 firme a loro dire non vanno bene, ma di che cosa stiamo parlando? Io lo ripeto, dura l'ex sed l'ex, qualora ritengono che ci sono stati dei visi da parte dell'Udc non solo lo devono dimostrare, ma lo devono anche comprovare, perché qui stiamo andando fuori dal diritto amministrativo, ma si sfocia nel diritto penale. Però mancavano i timbri di congiunzione. La prefettura dice che tutti i fascicoli hanno il timbro di congiunzione, che tutti i fascicoli sono nella loro interezza, però sentite cosa dice la prefettura. Non si sa quando è stato messo il timbro di congiunzione. Qui siamo ritornati all'amletico dilemma, è nato prima l'uovo o è nata la gallina. Se passa un concetto del genere in materia amministrativa, significa che delle prossime volte io posso fare il ricorso dicendo nel momento in cui ho messo la firma, pure nei fogli A3, non c'era la lista nella prima parte, quindi tutte le elezioni possono essere annullate. La crescente attesa della sentenza del Consiglio di Stato sui ricorsi elettorali e i futuri scenari politici saranno proprio gli argomenti affrontati questa sera nella puntata di Mobidic in onda in diretta su Telemolisi a partire dalle 21. Ospiti di Giovanni Minicozzi saranno gli avvocati Umberto Colalillo, Salvatore Di Pardo, Giacomo Papa, Mariano Principe e ancora i consiglieri regionali Lucio De Bernardo, Filippo Monaco, Antonio De Immo e il leader del centro-sinistra Paolo Frattura. È previsto inoltre il contributo esterno del Presidente della Regione Iorio. Ancora la politica è tornato a riunirsi oggi il Consiglio regionale. Al centro dei lavori l'approvazione del nuovo statuto proposto dal Presidente Pietracupa. Prevede la riduzione del numero dei consiglieri da 31 a 20, da 8 a 4. invece la riduzione prevista degli assessori e l'eliminazione della figura del sottosegretario come era stabilito nel precedente documento. Pietracupa ha annunciato che la seduta proseguirà a oltranza fino all'approvazione in prima lettura dello statuto. Intanto la discussione si è concentrata soprattutto sulla possibilità di eliminare gli assessori esterni. In particolare lo hanno chiesto il centro-sinistra e due consiglieri di maggioranza, Nicola Cavaliere e Lucio De Bernardo, i quali hanno presentato un apposito emendamento. Ora invece andiamo al Comune di Serna dove si è dimesso il subcommissario Patrizia Perrino e intanto gli occhi restano puntati sui conti dell'ente. Ce ne parla Enzo Di Gaetano. La notizia era già nell'aria ma ora è arrivata la conferma. Patrizia Perrino della Prefettura di Campobasso, subcommissario di Tino Vardè al Comune di Serna, ha rinunciato al suo incarico. Nessuna spiegazione sui motivi delle dimissioni. La Perrino doveva affiancare Vardè nella predisposizione del bilancio preventivo 2012 di Palazzo San Francesco. E quanto sulla sua rinuncia abbia avuto influenza lo stato preoccupante delle finanze del Comune di Serbia non è dato saperlo, anche se resta all'interrogativo. Ed è pesante. Vardè a fine mese va via e quindi Palazzo San Francesco continua a rimanere sotto l'incubo del terzo anno consecutivo di mancato rispetto del patto di stabilità. Entro il 30 ottobre bisogna presentare bilancio preventivo data non differibile. Resta l'incognita su chi metterà mano ad una situazione dei conti che si fa sempre più misteriosa. Vardè ufficialmente ha dichiarato che Isernia non ha rispettato il patto di stabilità per il 2010 e il 2011. Bisogna assolutamente far quadrare i conti del 2012, altrimenti si corre il rischio del dissesto con conseguenze pesantissime per tutti gli isernini. Aumento di aliquote e tariffe impensabili. Tra l'altro c'è una relazione, quella degli ispettori inviati dal Ministero delle Finanze, che rimane chiusa nei cassetti di Vardè. Il commissario non l'ha resa pubblica e quando gli è stata sollecitata la diffusione dei rilievi fatti dagli ispettori, Vardè ha fatto come Ponzio Pilato, lavandose nelle mani, ha chiesto l'autorizzazione al Ministero. In pratica per ora nessuna pubblicazione. Cosa ci sia sotto nessuno lo sa. La sinistra e i sindacati continuano a chiedere in vano notizie sui conti, sicuri che ci siano delle magagne, anche se bisogna ricordare quello che più volte Melogli ha detto, cioè che la situazione contabile del Comune di Isernia è assolutamente in regola. Infine ancora nessuna notizia dal Tarmolisse per il ricorso contro lo scioglimento del Consiglio Comunale. Ci sono 30 giorni per il deposito della sentenza a partire dall'11 ottobre, ma l'impressione è che la settimana prossima sarà decisiva, anche perché c'è la pressione del Ministero dell'Interno, che vuole sapere, prima che vada via Vardè, se bisogna o meno nominare il suo sostituto. Ora andiamo a Termoli, dove si è parlato di politica e di lotta alla corruzione. Ha partecipato a questo appuntamento anche Sandra Bonsanti, Presidente Nazionale di Libertà e Giustizia. Vediamo il servizio di Manuela Iorio. Per anni sotto la guida di Eugenio Scalfari è stata una delle firme di punta di Repubblica per poi lanciarsi nella direzione del Tirreno. Sandra Bonsanti oggi è Presidente Nazionale di Libertà e Giustizia, l'associazione che qualche mese fa ha aperto il suo circolo in Molise ed è stata a Termoli per partecipare a un dibattito sui temi della buona politica e della buona governance. Un incontro che ha saputo catturare un interesse trasversale con la presenza in sala di diversi esponenti non solo del centro-sinistra ma anche del centro-destra. In un momento di grave crisi economica, sociale e istituzionale con i partiti ormai arroccati nella difesa delle proprie rendite di posizione Sandra Bonsanti ha provato a spiegare come riavvicinare i cittadini alla politica. Tutto parte dal non abbandonare il territorio come è stato fatto in questi anni. Noi di Libertà e Giustizia siamo andati a fare circoli in tanti posti come Termoli dove ce lo chiedevano. Via via negli anni abbiamo visto crescere questa delusione dei cittadini nei confronti di una politica che era molto distratta e molto lontana dai loro problemi. Libertà e Giustizia non è un partito né un movimento di antipolitica ma vuole semplicemente dare voce ai cittadini, fare d'anello di congiunzione tra le istituzioni e la società. L'Associazione è convinta che l'unica soluzione possibile all'emergenza democratica sia il ritorno a una buona politica e una buona governance basate sul rispetto delle regole democratiche, dell'etica pubblica e del bene comune. Non ci si può arrendere, bisogna reagire, elaborare proposte e di fronte alla deriva della politica Libertà e Giustizia ha chiesto di riconsegnare il potere di scelta ai cittadini modificando la legge elettorale. In questo periodo in cui siamo tartassati da casi di corruzione come può il cittadino tornare a fidarsi della politica? Diciamo che anche il cittadino ogni tanto non è che sia sempre al di sopra può cominciare da se stesso e dal pretendere dalla politica quella trasparenza che finora sembrava una cosa dovuta, assolutamente necessaria ma che invece non c'è stata e quindi deve incalzare la politica perché il problema è questo, la politica deve capire che deve avere delle antenne che colgano con grande anticipo tutto ciò che c'è di malato non possiamo ogni volta aspettare la magistratura. Passiamo alla cronaca, prima condanna all'Aquila per le palazzine crollate durante il terremoto sotto una di queste, lo ricordiamo, morirono tre giovani della provincia di Isernia. Sentiamo Sergio Di Vincenzo. Quando il giudice del Tribunale dell'Aquila Giuseppe Romano Gargarella ha letto la sentenza e scoppiato in lacrime l'ingegnere Diego De Angelis è stato condannato a tre anni di carcere e a cinque di interdizione dai pubblici uffici era lui il progettista e direttore dei lavori di ristrutturazione della palazzina posta tra le vie Generale Rossi e Cola della Matrice è stato ritenuto colpevole di omicidio colposo, disastro colposo e lesioni gravi assolti il fratello Davide De Angelis, collaudatore dei lavori e Angelo Esposito, titolare dell'impresa che esegui l'intervento sul tetto dell'edificio fissata anche una provvisionale di 2000 euro per le 20 parti civili la difesa ha già annunciato il ricorso in appello in quella palazzina, crollata la notte del terremoto del 6 aprile del 2009 persero la vita 17 persone tra loro c'era anche la figlia dell'ingegnere condannato e c'erano tre giovani molisani, Vittorio Tagliente di Sernia laureato che si stava specializzando in ingegneria gestionale Michele Iavagnilio, anche lui di Sernia operatore in una struttura che si occupa di bimbi autistici e Danilo Ciolli, studente di Caroviglio ormai prossimo alla laurea in fisioterapia i genitori dei due giovani Sernini assistiti dagli avvocati Andrea Bucci, Rita Formichelli e Salvatore Galeazzo si sono costituiti parte civile in questo processo ma non è detto affatto che decidano di chiedere il risarcimento del danno precisano i legali le famiglie Tagliente e Iavagnilio si sono costituite in giudizio con un solo obiettivo conoscere la verità sulle cause della morte dei loro figli sapere se vi siano state davvero delle responsabilità Caos ieri all'università la facoltà di economia a Campobasso durante la selezione al corso di tirocinio formativo attivo per l'abilitazione a insegnare tecnologie alle scuole medie alcuni candidati all'apertura delle buste e alla lettura delle tracce hanno iniziato a protestare contro la commissione consideravano le domande non conformi al bando troppo complicate la protesta ha portato la commissione a invalidare la prova scritta che sarà ripetuta in altra data è arrivata anche la polizia chiamata da alcuni candidati in verità da registrare anche le proteste di chi la selezione voleva farla e non la reputava poi così difficile e non attinente al dettato ministeriale il rettore dell'università Giovanni Cannata ha voluto puntualizzare su quanto accaduto la confusione ha detto è stata originata da un gruppo di persone che poi l'ha passata alle altre aule le tracce erano attinenti chi viene a fare un concorso all'università poi spiegato ancora il rettore Cannata deve essere preparato per le materie di competenza torniamo a Termoli per la cronaca un furto e una rapina sventati nel giro di poche ore sentiamo un arresto per rapina un furto sventato a Termoli nel giro di poche ore serata movimentata ieri sera in via Messico dove un uomo è stato sorpreso a rubare in un appartamento scoperto dai proprietari di casa rientrati per cena ne ha prima aggredito uno con due pugni al volto cercando poi di fuggire lanciandosi fuori dal balcone ne è nato però un inseguimento sul retro del palazzo dove c'è un giardino e una siepe il malvivente l'ha saltata senza sapere che sotto c'era il vuoto ha fatto un volo di tre metri ed è precipitato a terra abbattendo violentemente la testa ferito e sanguinante ha provato a fuggire ancora ma alla fine si è dovuto fermare si tratta di un giovane di 30 anni di Bari soccorso dal 118 è poi ricoverato in ospedale con un trauma cranico e diverse ferite procurate durante la fuga il ragazzo è piantonato in ospedale dagli agenti della polizia ed è stato arrestato per rapina alle spalle già diversi precedenti gli è stato trovato addosso anche un grosso cacciavite nella notte invece a tentare il colpo con modalità questa volta molto più eclatanti sono stati due malviventi che hanno fatto irruzione nell'euro spin di via Corsica sfondando con il furgone l'ingresso del supermercato un boato fortissimo che ha richiamato l'attenzione di alcuni passanti nonostante fossero le 4 di notte l'obiettivo dei ladri era la cassaforte ma non hanno fatto in tempo a svuotarla perché nel tentativo di aprirla è scattato l'allarme presi dal panico sono fuggiti lasciando il furgone incastrato nella serranda probabile che ad aspettarli fuori c'era un complice sul posto sono arrivati vigilanza e carabinieri a cui ora sono affidate le indagini e ora cambiamo argomento parliamo di una nuova scoperta nel nostro sottosuolo dopo quelle di Trivento e Campomarino infatti una nuova tomba è emersa durante uno scavo per i lavori dell'acquedotto stavolta è avvenuto a Montagano e ce ne parla Giovanni Di Tota in questo servizio quando sono cominciate ad affiorare le pietre di una cinta muraria si è capito subito che lo scavo per l'acquedotto si era imbattuto in qualcosa di grosso a un paio di metri dalla superficie attuale infatti dopo aver riportato alla luce un pezzo di muro si è delineata la sagoma di un teschio umano tirando via la terra l'archeologo della soprintendenza arrivato appena sono riemersi i resti ha riconosciuto la mandibola di un bambino una tomba senza alcun dubbio forse una necropoli nella zona di Fonte San Giorgio a Montagano dove l'impresa Zurlo di Mirabello sta svolgendo i lavori per l'acquedotto lavori che sono stati subito fermati per studiare sia i resti del bambino ritrovato che la planimetria dell'eventuale cripta funeraria in cui ci si è imbattuti scavando per l'acquedotto non è la prima volta che le ruspe riportano alla luce reperti e necropoli ha del clamoroso il caso di Trivento dove le tombe sarebbero alcune decine anche in questo caso il cantiere è stato fermato una necropoli la cui planimetria non è stata ancora tutta scoperta è venuta alla luce a Campomarino accanto a un distributore di benzina la prassi prevede la copertura dei resti che vengono prima assicurati e protetti poi lo studio e l'eventuale riapertura dello scavo che deve però essere finanziato dalla sovrintendenza il sottosuolo del Molise come in molte parti della penisola si conferma ricchissimo di reperti e di storia ma nella maggior parte dei casi proprio per mancanza di soldi tutto ritorna sotto la terra buon successo di pubblico per la presentazione del calendario 2013 dell'associazione Borghi d'eccellenza del Molise 12 scatti che immortalano gli angoli più belli e suggestivi dei comuni che possono freggiarsi del logo Borghi d'eccellenza all'evento hanno partecipato l'architetto Franco Valente e l'artista Piero Romagnoli la stessa associazione ha anche organizzato per oggi alle 15 un convegno nella chiesa di San Bartolomeo a Campobasso sul problema dei graffiti nel centro storico al quale interverranno studiosi ed esperti del settore previsto anche un intervento musicale sempre a Campobasso è nata l'associazione Piero Polpetta per ricordare appunto Piero Gioffredi scomparso ad aprile molto conosciuto in città sentiamo Tonino Danese lo conoscevano tutti come Polpetta a Campobasso era un personaggio un omone dal grande cuore interista sfegatato appassionato di moto amico di tutti il suo pub un punto di riferimento per giovani e meno giovani Piero Gioffredi questo è il suo nome ha lasciato un grande vuoto in chi lo amava in chi lo conosceva la sua improvvisa scomparsa ad aprile non ne ha sbiadito il ricordo il suo impegno nel sociale quel modo sconosciuto ai più di fare beneficenza di aiutare chi ne aveva bisogno di sostenere le strutture che ospitano ragazzi con problemi familiari come la casa famiglia Cannavina un'attività che continua grazie alla nascita dell'associazione Piero Polpetta con sede in piazza San Leonardo noi abbiamo voluto qualche mese fa costruire questa associazione per portare avanti queste attività che Piero faceva da anni abbiamo già cominciato a concretizzare qualcosa perché gli iscritti per fortuna non sono mancati e con loro le quote di partecipazione che ci permettono di acquistare beni e questa volta è stata la volta di alcuni computer che abbiamo acquistato per allestire una sala multimediale all'interno della casa famiglia Cannavina di via Ziccardi e i ragazzi hanno voluto dedicare la stanza intitolandola Piero l'associazione ha un profilo facebook e a giorni sarà attivo il sito dove sarà possibile iscriversi tante le iniziative in cantiere ha spiegato il fratello di Piero Nico con lui anche il padre la sorella tanti amici la direttrice della casa famiglia Cannavina abbiamo già una collaborazione con l'ADH che si occupa di Handicap a Campobasso il mese prossimo allestiremo una biblioteca per loro e poi ci sarà la tradizionale sfilata dei motociclisti a Natale i Bobby Bikers che porteranno regali ai bambini disagiati c'è poi un altro progetto un progetto internazionale in Messico sì questo è un progetto di largo respiro e purtroppo di tempi un po' più lunghi e quindi intanto andiamo avanti col resto si tratta di costruire una scuola in Chiapas in Messico insieme all'Inter Campus abbiamo avuto rapporti con Francesco Toldo e a fronte di una nostra partecipazione economica quando la scuola sarà ultimata verrà intitolata a Piero un ragazzo della casa famiglia Cannavina ha portato un cartellone e un disegno con polpetta vestito da Babbo Biker la moto è una strada di nuvole verso il paradiso un modo per ricordare un uomo che in silenzio faceva del bene protestano i lavoratori del Carsic di Venafro l'istituto che si occupa della riabilitazione di persone disabili ancora una volta i dipendenti della struttura lamentano ritardi nei pagamenti e conseguenti difficoltà nel far fronte ai bisogni primari e al pagamento di mutui e bollette gli operatori del Carsic chiedono dunque alla ASRAM e all'assessorato regionale alla salute di vigilare sulla gestione dell'azienda al tempo stesso non escludono di ricorrere alle vie legali per ottenere il pagamento degli arretrati parliamo ora invece di un progetto per l'inserimento nel mercato del lavoro dei soggetti svantaggiati l'iniziativa è stata presentata alla provincia di Campobasso difficile trovare lavoro in un momento delicato per l'economia come questo ma lo è ancora di più per i soggetti svantaggiati occasioni di occupazione per loro sono sempre più rare ma la provincia di Campobasso ha deciso di investire in questa direzione con un progetto di recupero che ha portato alla nascita di quattro tirocini formativi affidati a due cooperative sociali un progetto nato in collaborazione con l'ASRAM e in particolare con il Dipartimento di Salute Mentale di Campobasso e Termoli in sei mesi ci auguriamo che queste due persone non avranno più bisogno delle borse lavoro compreso diciamo coloro che supervisionano ma potranno grazie ai privati alla sponsorizzazione del sito essere del tutto indipendenti e mantenere questo sito quindi il progetto come dire prevede che queste persone lavorino ad allestire questo sito su un piano comunicativo ma anche su un piano di archiviazione di tutti i documenti il sito chi lo vuole cercare è www.rsm campobasso.it dove rsm per rete salute mentale ed è già attivo in un momento come diceva lei in cui rispetto al lavoro c'è una sofferenza non da poco parlare di inserimenti lavorativi parlare di investire in opportunità lavorativa per disabili psichici in questo caso è davvero qualcosa di molto virtuoso abbiamo sicuramente voluto dare un forte impulso a tutto questo attraverso questo bel progetto un progetto realizzato con un protocollo con il dipartimento di salute mentale di Campobasso e con l'ufficio territoriale di Termoli questo l'abbiamo voluto realizzare sicuramente un po' nell'ottica di tutte quelle attività quelle attività progettuali di politica attiva e come provincia realizziamo quindi abbiamo voluto dare in questo caso una giusta rilevanza ripeto giusta e doverosa quando riguarda le categorie un po' svantaggiate in questo caso a chi ha problemi di disabilità psichica 36 alunni dell'istituto Marconi di Campobasso sono stati premiati con una pergamena perché si sono distinti nell'anno scolastico 2011-2012 conseguendo una media voto d'eccellenza nella fascia tra gli 8 e i 10 decimi la premiazione è stata fatta dal presidente del consiglio regionale Mario Pietracupa alla presenza dei docenti e del dirigente scolastico Sergio Genovese l'eccellenza va premiata ha detto Pietracupa perché essa mette in evidenza i talenti che possono cambiare in meglio e valorizzare la nostra terra un orgoglio per questa scuola avere ragazzi bravi ha sottolineato invece il preside testimonianza di una didattica che vale insegnanti preparati e soprattutto di talenti per il futuro e un importante risultato è stato conseguito da uno studente del liceo scientifico di Isernia alle Olimpiadi di Informatica ha conquistato infatti la medaglia d'argento non solo matematica anche nel campo dell'informatica gli studenti del liceo scientifico Majorana di Isernia stanno ottenendo risultati notevoli lo ha dimostrato Francesco Milano studente del quarto anno alle Olimpiadi di Sirmione ha conquistato la medaglia d'argento di base io avevo una passione già da qualche anno quindi da autodidatta poi la scuola mi ha messo a disposizione ultimamente è un corso che ho seguito con un professore esterno che mi ha dato le basi su argomenti che erano necessari proprio alla fase nazionale come nasce questa passione? beh questa passione non lo so è nata qualche anno fa diciamo anzi ultimamente è andata anche un po' scemando se vogliamo però resta di base proprio l'interesse per l'aspetto logico per l'aspetto intuitivo ecco ho cercato di vederla non soltanto dal punto di vista della programmazione ma cercando di individuare sempre la logica che si trova sotto l'algoritmo perché alla base di tutte queste olimpiadi c'è proprio un aspetto di ragionamento grazie a questo risultato Francesco parteciperà a uno stage a Volterra che potrebbe consentirli di andare alle olimpiadi internazionali di informatica in programma l'anno prossimo in Australia per l'istituto scolastico di corso risorgimento motivo di grande orgoglio Già nella scuola con i docenti nelle ore curriculari portiamo avanti queste attività è chiaro che per Francesco proprio in vista di questa fase nazionale abbiamo attivato un percorso di potenziamento e di approfondimento dobbiamo anche dire però che Francesco è bravo è bravo in quanto anche come autodidatta riesce a noi abbiamo soltanto potenziato dato maggior valore quelle potenzialità i risultati poi vengono vengono grazie all'impegno dei docenti all'impegno degli alunni all'impegno di tutti quanti bene è tutto per il nostro telegiornale delle quattordici grazie per averci seguito ora meteo e poi sport buona giornata a tutti voi grazie all'impegno grazie all'impegno grazie all'impegno